Lune contro Smith, una finta, l'oubriaca, ottimo scarico per la schiacciata di Dunston e ragazzi che qualità che ha nelle mani il playmaker di Varese 31 a 21 Tanti extra possessi generati dai rimbazzi della squadra di Vitucci e qua Dunston dopo aver stoppato va a chiudere così con la schiacciata, avevamo detto anche se l'aveva definito illegale Ora ancora Adrian Banks, servire Mike Green deve per forza prendere questo tiro lo scadere di 24, appoggia il tabellone e poi ancora Dunston a convertire l'ennesima schiacciata della sua partita Green contro Jackson, risale il blocco di Dunston Sinistra per Green, palleggio, alza il low per Dunston giocata pazzesca dell'asce Play Pivo, l'inchiodata da Patti Dunston 85-90 Esiste un contatto con Brian Dunston, al limite anche del fallo ha riscatto tanto il giocatore Varese e ora attenzione perché va in scena all'aeroplano il Boeing 747 Bexos, frutta il blocco di Dunston, poi si mette in proprio per questo po' giocatore il tiro, ma che cosa fa Dunston? e poi l'urlo liberatorio verso i tifosi Avrà fatto dei pensieri su questa partita e su tutte le altre partite cominciamo subito con una schiacciata del nostro Dunston Green, la palla per Dunston e ora cerca anche la giocata spettacolare Michael Green per Dunston e si stacca il suo aereo, la pinta di aereo, arriva però Dunston con tutta la sua atleticità io direi Green, Dunston a schiacciare Benz che deve fare tanta tanta fatica poi alla fine arriva Dunston già come aveva fatto in avvio di partita è dominante sotto canestro 45 a 28 e arresta il palleggio a fare stare cancro che però riesce a ritornare a stopparlo ma guardate cosa fa Mike Green per Brian Dunston questa è una scelta come fantastico è l'aiuto che ha fatto adesso Dunston inscriviti al canale